Tecnologia e digitalizzazione sono fattori chiave del mondo in cui viviamo. Lo sono per lo sviluppo sociale, per quello economico e per la qualità della vita delle persone. Per questo ci impegniamo al massimo per raggiungere i risultati migliori. Abbiamo iniziato collegando in banda ultralarga gli enti pubblici soci del territorio, realizzando anche una rete privata in grado di fornire connettività alle polizie locali, alla protezione civile e alla sanità. Da anni ci occupiamo di collegare le scuole della regione per consentire agli studenti una formazione anche digitale che sia al passo con l'evoluzione tecnologica che caratterizza il nostro tempo. Emilia Romagna Wi-Fi è la rete libera e gratuita al servizio dei cittadini che abbiamo implementato su indicazione della regione Emilia Romagna. Inoltre, grazie alla rete lepida, è possibile utilizzare i servizi online rivolti agli enti e ai cittadini. Con eCare ci occupiamo dei soggetti fragili. La rete li assiste nei loro bisogni fornendo sostegno e orientamento ai servizi sociosanitari. E con applicazioni di Internet of Things creiamo soluzioni per la sicurezza degli ambienti di vita degli anziani fragili, anche a sostegno dei caregiver, familiari e professionali. Siamo centro di competenza di livello nazionale nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi CUP che sviluppiamo per il servizio sanitario regionale. Forniamo l'accesso alle prestazioni sanitarie tramite sportelli fisici e online. Garantiamo inoltre soluzioni software ai medici e ai pediatri per la gestione dei percorsi di cura dei pazienti. Supportiamo la regione Emilia-Romagna e gli enti soci nel percorso di trasformazione digitale per raggiungere gli obiettivi fissati dalle agende digitali regionali e locali, per sviluppare una cultura digitale diffusa e per realizzare progetti di smart city. Abbiamo realizzato quattro data center regionali per garantire prestazioni e livelli di sicurezza elevatissimi che soddisfino i requisiti di continuità, scalabilità e qualità dei sistemi, sempre più attenti a nuove soluzioni per l'efficientamento energetico. L'EPIDA è questo e molto altro.